Gesù disse e compiuto Dovremmo imparare a compiere le cose e non a finirle Compiere e aver portato a compimento tutto quello che ci è stato chiesto Compiere e far sbocciare le cose che ci sono state donate come piccoli semi Compiere e prendersi cura delle cose che pian piano sono cresciute Nei nostri momenti di grande dolore e sofferenza Dovremmo riscoprire tutte le cose che abbiamo portato a compimento Il compimento non ha a che fare con il risultato positivo Ha a che fare con il cuore che abbiamo messo nelle cose